Se Putin probabilmente non è disposto a negoziare, non è disposto a trattare, finché almeno non ha consolidato una presenza in Donbass, è credibile. E cosa? Se arriviamo lì, siamo tutti d'accordo che ci si mette a negoziare? No, ci manca. No, no, momento. Siamo tutti d'accordo che ci si mette, dico noi, l'Europa, gli Stati Uniti, eccetera. Ucraina soprattutto. Ma certamente l'Ucraina e la Russia, ovviamente. Ci sono poi degli altri che hanno voce in capitolo. Allora, se arriviamo lì, le soluzioni, le possibilità di compromesso... Noi abbiamo l'Alto Adige in Italia. È una situazione che è frutto di un trattato internazionale. Se noi non rispettassimo i diritti degli italiani di lingua tedesca, l'Austria potrebbe dire la sua. Poi ci sono situazioni ambigue ancora, però che hanno garantito la pace per 10-20 anni. E il Kosovo, il Nagorno-Karabakh, ne hanno inventate di tutte. Cioè, se l'intenzione è fermare la guerra, non ammazzare più gente, per Baco, basta. E poi si negozia. Ci possono essere altri tipi di pressioni. Se noi non siamo convinti, terremo delle sanzioni. Vedremo come fare pressioni. Di nuovo si torna alla postura breve. Infatti Zelensky ha in negozio...